Ancora una volta Cervinara al centro di un'inchiesta clamorosa che travolge personaggi eccellenti, dopo il caso di Pasquale Lombardi coinvolto nello scandalo della P3, ora l'operazione Malta ha portato alla scoperta della cricca degli insospettabili, 12 arresti per un giro di truffe alle assicurazioni da 30 milioni. L'intoccabile che risulta indagato, come rivela stamane Repubblica Napoli, è il deputato del PDL l'irpino Marco Milanese, nativo di Cervinara, l'uomo più vicino al ministro Tremonti. Il parlamentare sarebbe finito nei guai per oscuri scambi intrecciati con la banda delle società scatole vuote, società fantasma radicate a Malta e all'estero. L'ipotesi di reato formulata dal PM Vincenzo Piscitelli è corruzione, si stanno valutando delle intercettazioni telefoniche nelle quali viene chiamato in causa il deputato di Cervinara, in passato maggiore della finanza, Milanese è oggi il collaboratore più vicino al ministro dell'economia, come conferma l'organigramma sul sito del ministero economia e finanza, la sua casella è la più alta. Ora resta da capire che rapporto abbia avuto il parlamentare con gli avvocati originari di Cervinara, Paolo e Vincenzo Viscione, padre e figlio, che figurano tra i dodici arrestati. L'anziano Paolo è avvocato affarista molto noto a Cervinara, lo stesso paese della Valle Caudina a cui sono legate le origini familiari di Marco Milanese. Sarebbe stato proprio lui ad essere citato in una telefonata nella quale l'avvocato confessa di essere ricattato dalla politica. da questo milanese, dice, per questa storia qua che si prende i soldi, io non voglio averci più a che fare. Per la procura si tratta proprio di quel milanese, il deputato che fu inserito dal coordinatore PDL Cosentino, nella lista campana per fare un favore a Tremonti. Gli inquirenti vogliono capire che cosa centri lui con questa banda di faccendieri che ha incassato 30 milioni di euro come premi assicurativi con centinaia di automobilisti truffati ancora in attesa di risarcimento. Nell'ambito dell'operazione sono stati sequestrati 76 immobili oggetti di valore, quadri e partecipazioni societarie per un valore complessivo di 50 milioni di euro.